siamo alla collina di nando la location a parma dove stiamo organizzando cinofollia 14 ottobre 2012 un bellissimo spettacolo abbiamo un drone che sta per decollare eccolo qui con il quale faremo un video dall'alto per vedere l'ambiente della collina di nando dove stiamo organizzando l'evento che è bellissimo vediamo questo drone che ci darà la possibilità di vedere anche la location dall'alto stiamo studiando tutti gli spazi eccetera la roba meravigliosa sarà preparatevi a venire a vedere cinofollie con il nostro drone che sta già filmando dall'alto poi metteremo un clipino direttamente su facebook cinofollie 14 ottobre 2012 parma ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.